Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Elisa e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare assicuratevi di iscrivervi al canale altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. La nostra storia inizia a Las Vegas nel 1963 quando nella famiglia Vincent nacque l'ultima di sette figli una bambina di nome Mary. Suo padre era un meccanico e al tempo stesso era arruolato nell'esercito americano quindi per questo motivo molto spesso doveva assentarsi da casa. Sua madre invece lavorava in un casino come non so bene il termine comunque si occupava dei tavoli dove giocavano a poker. L'infanzia di Mary e dei suoi fratelli non fu delle più serene infatti i due genitori litigavano spessissimo anche davanti a loro. Oltre questo il padre molto spesso era assente, la madre doveva comunque lavorare quindi anche lei non poteva prendersi al 100% cura dei suoi figli quindi insomma non fu diciamo un ambiente proprio sereno e ideale per dei bambini. Al compimento dei 15 anni di Mary i suoi genitori divorziarono e fu un periodo molto duro per tutti i suoi fratelli e compresa Mary ma lei fu quella che lo patti di più probabilmente anche per il fatto che era la più giovane. Iniziò per lei un periodo un po' ribelle, marinava la scuola molto spesso, usciva con un ragazzo più grande che non piaceva per niente i suoi genitori, era già scappata più di una volta di casa, insomma era diventata la classica adolescente ribelle e il fatto che questo divorzio tra i genitori non fu un divorzio diciamo tranquillo e sereno, infatti i due continuavano a litigare per l'affidamento dei figli, per le varie proprietà, quelle classiche cose dopo il divorzio che forse sono quasi più attuate per ferire l'altro piuttosto che per effettivamente decidere a chi va da cosa. E questo fatto ovviamente non andò a migliorare la situazione di Mary che decise di lasciare ufficialmente casa sua e trasferirsi insieme al fidanzato. Questo fidanzato però era un delinquente, non so come dirlo diversamente, aveva avuto diversi problemi con la legge e tipo un mese neanche dopo che la ragazza si trasferì con lui venne arrestato per molesti nei confronti di un'altra ragazza. Quindi a questo punto Mary si trovò senza casa, senza una persona a conquistare, di fatto decise di tornare a casa da sua madre. Qui le cose però non andarono per niente bene, quindi di nuovo scappò di casa, andò a vivere a casa della zia materna che non poteva però essere insomma una situazione definitiva perché questa zia aveva già la sua famiglia una casa piena, quindi le aveva detto rimani pure finché hai bisogno però insomma non puoi restare qui tutta la vita. Per questo motivo Mary contattò il nonno materno che abitava in California in una città che si chiama Berkeley. Mary spiegò al nonno la sua situazione e il nonno le propose di andare a vivere con lui e Mary era contentissima di questa cosa, aveva un ottimo rapporto con suo nonno quindi decise di intraprendere questo grande viaggio in realtà perché si trovava più di 10 ore di distanza da Las Vegas. A questo punto ci troviamo nel 1978 e in questi anni era diventato davvero popolarissimo un metodo di spostamento diciamo di spostarsi ovvero fare l'autostop. Al tempo non era solo molto popolare tra i giovani ma anche tra persone più adulte e Mary stessa in realtà ha fatto diverse volte l'autostop nella sua vita però mai per un tragitto così lungo. Questa volta Mary aveva un piano per la sua vita, sarebbe andata a vivere dal nonno, avrebbe terminato gli studi, si sarebbe trovata un lavoro part time e nel suo tempo libero avrebbe continuato a prendere lezioni di danza, passione che aveva da quando era piccolissima. Sarebbe entrata in una compagnia di danza e avrebbe continuato a fare due lavori fino a quando quello di ballerina l'avrebbe potuta sostenere completamente economicamente. Era un progetto di vita fra tanti ma era il suo progetto di vita e Mary sentiva che fosse proprio la prima volta nella sua vita che aveva effettivamente le idee chiare, sapeva cosa voleva far da grande, aveva un piano generale. Il 29 settembre del 1978 Mary partì da casa di sua zia, si posizionò all'ingresso dell'autostrada che sarebbe andato appunto verso Berkeley e si mise a fare autostop. Con lei c'erano anche altre due ragazze singolarmente che stavano cercando anche loro un passaggio e tutte e tre avevano un cartello sul quale avevano scritto la direzione verso la quale appunto avevano bisogno di andare. La maggior parte delle persone in realtà non prestano molta attenzione alle persone che hanno, che insomma che fanno autostop quindi dovettero aspettare un bel po' in realtà prima di trovare qualcuno che fosse effettivamente disposto a dare un passaggio. Finalmente si fermò un uomo di mezza età sulla cinquantina a bordo di un van. Disse che stava andando proprio verso Los Angeles che era la direzione in cui sarebbe dovuta andare proprio Mary quindi si propose di darle un passaggio. Ora le due ragazze che erano con lei racconteranno poi in seguito che avevano avuto non so come dire una strana sensazione nei confronti di quest'uomo e che avevano detto diciamo in modo veloce senza farsi sentire da quest'uomo a Mary di non prendere quel passaggio e aspettare che un'altra persona si fermasse per lei. Mary disse loro di non preoccuparsi che anzi aveva una buona impressione di questo signore sorrideva sembrava gentile e a quanto disse lei le ricordava un po' suo nonno. Quindi la ragazza accettò il passaggio salì sul van e i due partirono insieme. Durante il viaggio i due si misero a chiacchierare tranquillamente anzi Mary si trovò ben presto a trovare questo signore addirittura simpatico una piacevole compagnia per un viaggio così lungo. Dopo un paio d'ore Mary come vi ho detto si sentiva assolutamente al sicuro e di conseguenza si addormentò. Si svegliò dopo una quarantina di minuti circa e notò una strada che non riconobbe ma riconobbe un cartello che segnava una direzione che era letteralmente opposta rispetto a quella dove doveva andare lei. Per questo motivo si preoccupò un attimo e chiese al suo compagno di viaggio come mai avessero imboccato quella strada che andava dalla porta opposta rispetto a dove doveva andare lei. E qua ho trovato in realtà due versioni contrastanti di questa cosa qui. In realtà non cambiano di fatto la vicenda comunque vi racconto tutte e due le cose che ho trovato. Su un articolo c'è scritto che praticamente quando Mary gli chiese come mai stesse andando dalla parte opposta rispetto a dove doveva andare lei l'uomo le rispose di aver semplicemente sbagliato strada e che stava cercando un punto in cui uscire dall'autostrada per poter fare praticamente inversione. In un'altra fonte invece ho letto che praticamente ha usato come sorta di scusa dicendo no no è vero che stiamo andando in una strada un po' opposta però conosco una scorciatoia un modo per fare più in fretta. In ogni caso in qualsiasi versione insomma sia andata effettivamente la vicenda Mary credette a queste parole. Quindi si rilassò un pochettino ma rimase molto più in allerta rispetto a prima. Passò qualche minuto e la ragazza iniziò a rimuginare un attimino su questa cosa e decise che non si sentiva più totalmente al sicuro. Quindi chiese al signore se si potessero fermare in un'area di servizio perché doveva utilizzare il bagno. In realtà il suo piano era quello di arrivare a una stazione di servizio scendere da quel van e trovare un altro tipo di passaggio. Dopo una decina di minuti si fermarono in un'area di servizio totalmente deserta. L'uomo uscì dal van anche lei fece lo stesso ma si accorse di avere le scarpe slacciate quindi sì chi no per riallacciarsele. Non appena si rialzò qualcosa di metallico la colpì alla testa facendole perdere i sensi. A questo punto non sappiamo precisamente per quanto tempo Mary rimase incosciente ma quando si svegliò si trovò all'interno del van però non dove stanno seduto il guidatore e il passeggero ma nel retro praticamente. Non solo era sporca del suo sangue che stava perdendo dalla ferita alla testa ma era anche legata alle pareti di questo van. Poco distante da lei ma abbastanza distante da non essere raggiunto dalla ragazza c'era un martello che scoprì poi essere l'attrezzo con cui l'aveva colpita poco prima alla testa. Il van era ancora in movimento quindi il suo compagno di viaggio fino a poco tempo prima, adesso era il suo rapitore, stava ancora guidando. La ragazza non sapeva ovviamente per quanto tempo era rimasta svenuta, potevano essere passati dieci minuti come tre ore. Provò più volte ad urlare a chiamare aiuto ma sapeva già in realtà che non sarebbe servito a niente rumore che sentiva era quello del van sulla stradina. Tra l'altro capì che era una stradina non era più un autostrado o cose del genere perché sobbalzava parecchio, sembrava una stradina di quelle non asfaltate. Dopo circa un'ora da quando Mary riprese conoscenza il van si fermò e la ragazza sentì qualcuno scendere dal lato del guidatore e arrivare fino all'entrata del retro del van. Ora preparatevi perché la notte e le ore in realtà successive per la ragazza saranno davvero un inferno. L'uomo del quale si era fidata che le aveva dato un passaggio entrò all'interno del van e richiuse il portone dopo essere entrato. E da quel momento per tutta la notte successiva quest'uomo la seviziò in ogni modo possibile e immaginabile. Non solo la colpì più volte con il martello, abusò anche di lei, sembrava davvero a tutti gli effetti un sadico. Ovviamente Mary pianse, urlò, cercò di per quanto possibile perché ovviamente era per tutto questo tempo rimase legata al van, cercò di lottare, cercò di respingerlo. Ma non solo questo non servì a respingere il suo aggressore ma non servì nemmeno a farsi sentire da qualcuno perché lei ancora non lo sapeva ma erano in mezzo al nulla nel bosco. Verso le prime ore dell'alba sembrava che questo mostro avesse esaurito tutta la sua violenza quindi Mary decise di chiedergli di implorarlo, di liberarla. Gli disse che non avrebbe raccontato niente a nessuno, se l'avesse lasciata andare non l'avrebbe denunciato si sarebbe dimenticata di tutto. E l'uomo con sua grande sorpresa le disse va bene se vuoi essere liberata ti libero. Dopodiché quest'uomo preso un'ascia e iniziò ad avventarsi su di lei su entrambe le sue braccia. Fu una cosa lenta e ovviamente atrocemente dolorosa per lei ma Mary non poteva fare altro se non aspettare che quest'uomo finisse. L'uomo nei minuti successivi che a Mary sembrarono ovviamente eterni le amputò entrambe le braccia e dopo questo come se non avesse fatto ancora abbastanza prese Mary, uscì dal van e la buttò in un dirupo che c'era lì. Poi scese anche lui riprese il corpo di Mary che a questo punto ancora viva e la mise in uno di quei buchi, non ho trovato una traduzione che abbia un senso in italiano comunque vi metto una foto di quello che intendo, uno di quei tubi di quei buchi di cemento in una diga che c'era lì vicino e dopo averla messa lì disse sei contenta adesso sei libera. Dopodiché se ne andò abbandonandola di fatto a morire lì. Mary a questo punto come potete immaginare non solo perdeva tantissimo sangue ma aveva quasi accettato la sua fine che quella sarebbe stata la sua fine. Fino a quando non la colpì un pensiero ovvero il fatto che quest'uomo l'avrebbe fatta franca perché nessuno l'avrebbe ritrovata lì o comunque chissà tra quanti anni l'avrebbero ritrovata quindi quest'uomo non solo non sarebbe stato incriminato per quello che l'aveva fatto ma avrebbe fatto la stessa cosa anche a qualcun altro. E a questo punto non so chiamatela come vi pare forza sovrumana forza divina non lo so ma questa donna questa non una donna questa ragazzina perché aveva 15 anni trovò da dentro di sé una forza che non so non so come spiegare non so come spiegare diversamente. Si tirò su infilò quello che le rimaneva delle braccia nel fango circostante per riuscire a bloccare quanto più possibile l'emorragia e tenendo le braccia comunque quello che restava delle braccia in alto per di nuovo cercare di ridurre al minimo questa emorragia risalì per il dirupo e camminò per 4 chilometri e mezzo fino a raggiungere una strada principale. Su questa strada principale passò una macchina che non si fermò non riesco a spiegarmela questa cosa anzi questa macchina che non rientracciarono mai più non solo non si fermò ma non so se per il fatto che non so vedendo una ragazza in quelle condizioni si spaventarono non so come giustificare il gesto accelerarono per andarsene il prima possibile. E a questo punto Mary racconterà di essersi sentita persa tutta la fatica aveva fatto fino a quel momento per arrivare lì era stata inutile perché era appena stata ignorata dalla sua unica possibilità di salvezza. Quindi scoraggiata e ovviamente nelle condizioni in cui era con tutto il sangue che aveva perso si accascia per terra e per una seconda volta pensa che sia arrivata alla sua fine. Fortunatamente però pochi minuti dopo passò un'altra auto con delle persone migliori evidentemente di quelle di prima che si fermarono la caricarono in auto e la portarono all'ospedale più vicino. Qui la medicarono ovviamente d'urgenza era in condizioni davvero pietose questa ragazza. Alcuni medici diranno di non saper spiegare in modo scientifico di come questa ragazza non solo in quelle condizioni fosse ancora viva ma che avesse camminato per tutto quel tratto di strada che diceva di aver camminato. Era qualcosa di inspiegabile. Non appena la ragazza si svegliò dall'intervento la polizia era già lì con lei e cercò di dare una descrizione il più dettagliata possibile non solo esteticamente dell'uomo che l'aveva aggredita ma anche del veicolo che aveva utilizzato per andarsene. Iniziò una vera e propria caccia all'uomo. Nel frattempo in quel periodo la notizia di questa ragazza come potete immaginare fece abbastanza il giro dell'america. Era una storia davvero incredibile. In più c'erano un sacco di persone terrorizzate dal sapere che c'era un pazzo che girava e che faceva queste cose alle persone. Passarono diversi giorni nel frattempo Mary ottenne delle protesi e iniziò a guarire almeno per quanto riguarda ovviamente le ferite fisiche. A livello psicologico non oso immaginare quanto sia difficile tirarsi fuori da una situazione del genere. Nel frattempo come vi dicevo la notizia aveva fatto un po' il giro dell'america. Le persone prima ancora di sapere l'identità di quest'uomo gli avevano dato un nome un po' alla Jack lo squartatore insomma tipo l'accettatore pazzo una roba del genere e finalmente riuscirono a fermare questo van. C'erano tantissimi poliziotti che fermavano tutti i van che corrispondevano a quella descrizione e cercavano di insomma capire se la persona o che lo stava guidando il proprietario potesse assomigliare all'aggressore di Mary e finalmente lo trovarono e lo arrestarono ovviamente. Quest'uomo era Lawrence Singleton un uomo di 50 anni originario di Tampa in Florida e quello non era il suo primo crimine era sicuramente il più violento ma era già stato arrestato in precedenza per aver abusato di due ragazze. Quest'uomo venne arrestato, venne fotografato, Mary vide una di queste foto e confermò che si trattava proprio del suo aggressore. Il processo iniziò a sei mesi dall'aggressione e Mary con un'ulteriore dimostrazione di coraggio testimoniò al processo. Avrebbe potuto anche scegliere di non testimoniare ma sapeva di doverlo fare in primis per lei per affrontare fisicamente il suo aggressore e soprattutto che la sua testimonianza sarebbe potuta servire per convincere totalmente la giuria della colpevolezza di quest'uomo. E quando Mary entrò in aula, perché non partecipò a tutto il processo, entrò solo per fare la sua testimonianza, nel momento in cui entrò in aula dovette praticamente passare di fianco al banco dove stava appunto questo signore con il suo avvocato e quando passò di fianco a quest'uomo lui le disse finirò il lavoro che ho iniziato con te dovesse costarmi tutto il resto della mia vita. E nonostante quest'uomo le abbia detto questa cosa e lei continuasse ad avere solo 15 anni, strinsi i denti, salì su quel banco dei testimoni e confermò tutto quello che aveva già detto alla polizia. Al termine del processo l'uomo viene dichiarato colpevole, condannato a dover rimborsare a Mary due milioni e mezzo di dollari per i danni che le aveva inflitto. Ma, e questa è solo una delle cose che so che vi farà arrabbiare di questo video perché ha fatto arrabbiare un sacco anche me, praticamente quest'uomo era nulla tenente quindi l'unica cosa che riuscirono a vendere di sua proprietà fu il van che aveva utilizzato. Da questi pochi soldi che fecero vendendo il van vennero consegnati a Mary ma contate che non coprirono neanche un terzo del costo delle protesi di Mary. Poi tra l'altro, non so se era per il periodo, ho sentito di recente un'intervista di Bebevio, che non so se conoscete, che ha detto che in realtà è così anche in Italia. Praticamente le protesi base te le dà lo Stato, cioè te le dà, te le paga lo Stato, solo che queste protesi base sono difficilmente utilizzabili, nel senso che sono molto scomode, non sono fatte specificatamente per la mutilazione, insomma che sia del braccio, della gamba eccetera, della persona a cui viene data questa protesi, sono come fossero delle protesi universali. Per avere delle protesi che siano effettivamente comode e utilizzabili a seconda della vita che fa una persona che ne ha bisogno, devi pagartele praticamente tu e hanno un costo, cioè con tantissimi zeri. Quindi non solo Mary non se ne fece praticamente niente di questi soldi, ovviamente i soldi non curano il danno, non curano il danno psicologico, però possono essere sicuramente un aiuto. Quindi non solo non ottenne questi soldi, lui venne condannato a solo 16 anni di prigione e dico solo perché se Mary non avesse tirato fuori questa forza da non si sa dove sarebbe morta, quindi questo sarebbe stato un processo per omicidio. E in terzo luogo, escludendo ancora i danni psicologici, che quelli appunto non si ripagano, avrà una difficoltà per tutta la sua vita a trovare un lavoro, perché ovviamente a causa del danno che le ha fatto quest'uomo non può svolgere qualsiasi tipo di lavoro le voglia. E qua ancora non ho finito ma voglio focalizzarmi un attimo sugli anni di inferno che Mary avrà negli anni successivi a questa condanna. Soffrirà di attacchi di panico, per anni non lascerà casa sua perché non si sentiva sicura neanche intorno ai suoi parenti, i suoi genitori, i suoi fratelli. Per molto tempo ebbe problemi a dormire, dovettero prescrivergli dei sonniferi perché ogni volta che chiudeva gli occhi riviveva quell'esperienza. Sobbalzava ad ogni rumore che diventarono piano piano un piccolo trigger per gli attacchi di panico, se sentiva squillare il telefono sobbalzava, se sbatteva una porta sobbalzava, se sentiva suonare all'improvviso un clacson, una sveglia, un rumore improvviso, lei sobbalzava e aveva un attacco di panico. Iniziò anche a soffrire di alcuni disturbi del comportamento alimentare, insomma gli anni successivi furono un vero e proprio inferno per lei. Fino a quando piano piano con tanto supporto dalla sua famiglia e tanto supporto anche professionale da psicologi e psicoterapeuti, riuscì ad uscirne. Il punto di svolta per lei, lo racconterà poi in seguito, sarà quando la sua famiglia gli regalò un cucciolo di cane che per qualche motivo le fece insomma cambiare totalmente la visione della sua vicenda. Iniziò pian piano a ritrovare alcune passioni, inizierà a darsi alla pittura, al disegno, poi vi parlerò anche di questo, insomma di quello che è stato il suo futuro alla fine del video. Nel frattempo, perché purtroppo le cose negative non sono ancora finite, nel frattempo Lawrence in prigione iniziò a raccontare tutta una sua versione di fatti che non penso valga la pena neanche soffermarsi, ma ve la racconto, lui sostenne praticamente di aver fatto quelle cose lì per legittima difesa, perché Mary quando aveva visto che aveva cambiato strada disse che lo aveva minacciato con un bastone. Anche fosse vera questa cosa non giustifica le servizi di una notte e le amputazioni, il fatto che l'ha buttata giù da un dirupola, cioè va bene mi fermo qua però mi sembra giusto raccontarvi quello che ha detto questo signore. Praticamente comunque a parte questa storia che lui raccontava, tra buona condotta, cose del genere, dopo solo otto anni di prigione, quest'uomo viene rilasciato. Tornò a vivere in Florida, nel 1990 viene arrestato per due furtarelli, continua a vivere insomma la sua vita. Nel 1997 il suo vicino di casa contattò la polizia perché aveva sentito delle urla di donna provenire dalla casa di questo Lawrence. La polizia arrivò di lì a pochi minuti dopo solo per trovare il cadavere di una donna. Era Roxanne Hayes, una donna che era madre di tre figli, era stata rapita poco prima da Lawrence e uccisa a coltellate. Viene nuovamente arrestato nel 1998, inizia il processo per questa causa qui e Mary volle partecipare a questo processo per testimoniare e ribadire di quanto fosse pericolosa quell'uomo, ma anche per ricordare alla corte di non fare lo stesso errore che avevano fatto anni prima col suo caso, perché se gli avessero dato una pena decisamente più lunga per il suo caso questa cosa non sarebbe successa. Dopo queste cose appunto che disse come testimonianza, lei uscì dal tribunale, non guardò neanche in faccia Lawrence e al termine del processo venne condannato alla pena di morte, che però non verrà diciamo effettuata perché morirà di cancro nel 2001, mentre era ancora in prigione. Qualche informazione su Mary Vincent, attualmente vive lontano dai media, cerca di evitare qualsiasi tipo di esposizione al pubblico, è diventato un artista, ha imparato a disegnare con i gessi e fa delle opere che in realtà ho letto che vende ma non le ho trovate su internet da nessuna parte, magari giustamente non le vende su internet ma fa delle esposizioni insomma private e fa quadri astratti però che rappresentano diverse situazioni che lei descrive come le varie emozioni che possono provare le donne che subiscono violenze. Ha tra l'altro scoperto un altro hobby, un'altra passione ovvero il bullying che praticamente pratica con delle protesi che si è creata lei, non so bene come abbia fatto però ha creato delle protesi che le permettano di poter giocare a bullying. Penso che come ho fatto altri due casi di persone che sono sopravvissute a crimini del genere, no non è vero altri tre casi perché ho fatto uno di recente della bambina puja, non so se l'avete visto, un caso indiano. Comunque penso che possano davvero essere una fonte di ispirazione per molti di noi. Come al solito fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso nei commenti, grazie di essere arrivati fino a questo punto del video, se volete sostenere il canale vi ricordo di iscrivervi, lasciare un commento, un mi piace, seguirmi su instagram se volete mi trovate come Elika Pano o sul mio canale dei vlog che mi trovate come Elika Pano Vlog. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con il prossimo video.